Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Crescita Personale, un canale che ti consentirà, se seguirai video, secondo un percorso programmato, a raggiungere la tua crescita personale, quindi ad avere successo in tutti gli ambiti della tua vita, diciamo intanto con te stesso, ma poi nelle relazioni sentimentali affettive, nelle relazioni personali e sessuali e un po' in tutti gli ambiti della tua vita. Quindi segui questo canale, iscriviti, attiva la campanella in modo tale che potrai essere informato di tutti i video che verranno pubblicati. Ti saluto e ciao, a presto!